Quando andiamo a realizzare una nuova casa per prestazioni in legno e paglia progettiamo un involcro molto isolato grazie appunto all'isolamento delle balle di paglia. Ma come facciamo a dare garanzia e a controllare i risultati per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e le sostanze nocive? Lo facciamo mentre la casa è abitata. Questo monitoraggio comprende la temperatura, l'umidità, il rumore perciò l'acustica e anche eventuali sostanze volatili. Lo facciamo con questi strumenti. Questi sono tre strumenti per il monitoraggio e li vado a regalare ai miei committenti che hanno costruito la loro casa in legno e paglia. Questo è uno strumento che consente di monitorare la qualità dell'aria, temperatura e l'umidità ogni ora. Perciò riusciamo ad avere dei dati per tutto l'anno e andiamo a capire l'effettivo comfort che hanno i committenti all'interno delle loro case realizzate in paglia. Ecco, queste sono tre stazioni per il monitoraggio della qualità dell'aria.